ciao a tutti e bentornati su hermes channel web tv in un'altra puntata di sai che intanto saluto valeria che è bellissima anche oggi vero come tutti gli altri giorni grazie e tu vuoi vedere che il brutto della situazione so io qua sto scherzando ok anche tu sei bello grazie oggi soltanto ce l'abbiamo fatta bene allora valeria vai raccontaci dici abbiamo un sai che ad alta valenza storica parleremo del castello di marchione a conversano perché si chiama marchione qual era il suo utilizzo in che epoca è stato costruito chi sono stati i rappresentanti più illustri della casata michele forte lo storico non che uno dei due eredi testamentari del castello di marchione ci trascinerà con il suo racconto nell'antica storia della famosa casata beh penso proprio che vi dovete iscrivere a questo canale prima di vedere il video ci vuole no e non dimenticate il campanellino contiamo su di voi vero certo e adesso è importante anche un vostro mi piace è vero grazie valeria suggerisci sempre mi raccomando e adesso è arrivato il momento di vederci questa bellissima informazione storica ciao oggi siamo in un posto di alta valenza storica con michele forte uno dei due eredi testamentari del castello marchione di conversano michele perché si chiama il castello marchione il nome preciso deve essere castello di marchione si chiama così perché faceva parte del bosco di marchione un bosco ricco di macchia e da macchia macchione marchione era un bosco ricco praticamente di alberi di alto fusto e di cespugli quasi impenetrabile e questa era una tenuta una delle tenute di caccia e nonché residenza estiva dei conti acquaviva d'aragona era esteso questo bosco circa 1200 ettari così come appare anche da alcune piante di fine ottocento michele in che anno è stato costruito sostanzialmente possiamo individuare tre epoche di costruzione il piano terra risale in un'epoca compresa fra la fine del 1400 e la metà del 1500 il piano in cui ci troviamo è stato costruito intorno al 1650 il portale invece con gli annessi fabbricati che noi oggi chiamiamo corpi di guardia ma che nascono come cucine lì quelli hanno una data precisa di costruzione che il 1721 1722 perché precisa perché nell'archivio di stato di Bari è stato rinvenuto il contratto di appalto fra il conte Giulio Antonio III di Aragona e quattro imprese ed Ili di Bari contratto stipulato presso il notaio Buonasora di Conversano nel quale si descrive in modo particolareggiato la costruzione di questi immobili fino agli anni Ottanta si riteneva sulla base di una tesi di uno storico che scrisse l'istoria di Noci un tale Pietro Gioia che l'immobile fosse stato costruito fra il 1730 e il 1740 questo come ho detto è andato avanti fino al 1980 circa anno in cui è stato rinvenuto questo contratto di cui ho parlato che quindi poiché nel testo del contratto c'è scritto che gli immobili costruiti nel 1721-22 erano al servizio dell'esistente casino di caccia va da sé che il casino di caccia era preesistente al 1721 e quindi cade l'ipotesi del 1730 e del 1740 a conferma di ciò fra una corposa documentazione che qualche mese fa abbiamo rinvenuto proprio qui abbiamo individuato un verbale di testimonianza del 1688 dell'allora sindaco di Conversano Tarsia con il quale viene descritto Marchione e risulta costituito da palazzo, cappella, stalla, palumara e neviera quindi il palazzo già esisteva nel 1688 Michele come viene utilizzato adesso questa struttura? Allora la parte del piano terra è utilizzata per un'attività commerciale che si è resa necessaria a partire dagli anni 90 per il mantenimento della casa e per ricavare i fondi per continuare praticamente il suo recupero questa casa ha subito un lungo periodo di abbandono nell'Ottocento divenne praticamente una masseria, fu letteralmente devastata poi a partire dagli inizi del 1900 Giulia Accoglio ad Aragona iniziò un sapiente lavoro di restauro e di recupero che il figlio Don Fabio Tomacelli Filamarino ha proseguito anche grazie a questa attività che lui creò aprendo una sala per ricevimenti nel 24 luglio 1993 e i fondi che si ricavano da questa attività servono per continuare il recupero praticamente della casa il piano nel quale ci troviamo invece per disposizioni testamentari dell'ultimo conte di Conversano è diventato museo museo che noi in pratica dedichiamo sia agli Accoglio ad Aragona sia ai Tomacelli Filamarino che era la casata di parte paterna dell'ultimo conte di Conversano come museo è possibile effettuare le visite? Sì, come Don Fabio ha sempre fatto noi stiamo facendo, almeno per il momento, visitare gratuitamente la casa proprio, diciamo così, in onore della famiglia abbiamo rinvenuto, come ho detto prima, moltissima documentazione che stiamo, con l'aiuto di uno storico della soprintendenza archivistica e bibliografica che stiamo catalogando, si sta studiando perché poi da qui a qualche mese forse alla fine dell'anno prossimo verranno praticamente anche esposti questi documenti nelle forme consentite per non sciupare i documenti stessi quindi è senz'altro possibile Ma chi sono stati le Acquaviva ad Aragona? Gli Acquaviva nascono così diventati poi Acquaviva ad Aragona successivamente sono state una delle più grandi famiglie italiane la storia degli Acquaviva si perde probabilmente non c'è certezza assoluta ma c'è qualche traccia che identifica la presenza di Acquaviva già nel Seicento, non nel 1600, nel Seicento diciamo che storicamente cominciano ad avere rilevanza a partire da un certo Rinaldo Acquaviva che intorno al 1100 sposa modesta figlia di Leone d'Atri che era praticamente signore di Atri nel 1393 un Acquaviva che si chiamava Antonio per 35.000 ducati compra dal re Ladislao di Durazzo la signoria di Teramo il ducato d'Atri nel 1395 diventa primo duca d'Atri che è il titolo nobiliare più antico d'Europa successivamente nel 1456 diventano Conti di Conversano perché un membro della famiglia che poi divenne Acquaviva ad Aragona perché nel 1477 ebbe diritto ad annettere l'appellativo ad Aragona sposò la figlia dell'allora principe di Taroto quindi ricevette la Contea di Conversano nel 1497 diventano duchi di Nardò nel 1509 diventano Conti di Caserta quindi complessivamente avevano cinque rami San Flaviano, Atri, Conversano, Nardò e Caserta che man mano si sono estinti il ramo Caserta si è estinto autonomamente intorno al 1650 senza confluire negli altri rami i rimanenti invece si sono tutti estinti perché confluiti nel ramo Conversano e Don Fabio Tomacelli Filomarino finito il primo marzo 2003 araldicamente è stato l'ultimo membro di questa gloriosa casata In questa casa ci sono tanti reperti riguardanti la casata Acquaviva ad Aragona ce li illustra? Sì, ce ne sono tantissimi allora partiamo dall'albero genealogico che troviamo alle nostre spalle sotto in basso infatti c'è scritto Acquaviva Rum Stemma perché è un albero degli Acquaviva come ho detto in un intervento precedente gli Acquaviva nascono Acquaviva diventano dopo Acquaviva d'Aragona ogni cerchio che vedete sull'albero rappresenta una persona vediamo da una parte dell'albero c'è il simbolo originario degli Acquaviva che è il leone rampante che venne permutato da leone datri il leone rampante era di colore blu su fondo oro l'ampassato di rosso con la lingua immersa di colore rosso poi successivamente nel momento in cui ebbero il diritto ad aggiungere l'appellativo d'Aragona ebbero l'autorizzazione anche ad inquartare lo stemma per cui lo stemma venne diviso in quattro parti due parti occupate da un leone rampante e le altre due parti dello stemma d'Aragona quindi questo è il primo reparto la seconda cosa che vediamo è il ritratto di Antonio Acquaviva che come ho detto in una risposta precedente compro la signoria di Terramo e il ducato d'Atre è raffigurato il suo volto in questo medaglione se noi leggiamo c'è scritto Antonius poi hanno aggiunto De Acquaviva d'Aragona perché praticamente il medaglione è stato fatto successivamente all'attribuzione dell'appellativa quindi in pratica lo hanno messo pur non avendone ancora diritto diciamo a quell'epoca e poi leggiamo Dux Adrie I cioè primo duca d'Atre a lui si deve fra l'altro anche la denominazione del dolce tipico di Atri in panducale si racconta di lui che recato si invisita la prima volta nel ducato d'Atre che all'epoca insomma era uno stato venne accolto con molto favore dalla popolazione gli fu dato in omaggio il dolce tipico di allora che si chiamava pizza di mandorle lui lo approvò gli piacque talmente tanto che per il resto della sua vita lo regalò a tutti gli amici che aveva in tutto il mondo e poi per i cinque secoli successivi anche i discendenti hanno fatto altrettanto e gli atriani gli abitanti di Atri ritenero di ridenominare il dolce tipico da pizza di mandorle a panducale se qualcuno va a Atri e compra il panducale sotto c'è scritta questa storia continuiamo con il ritratto di Giulio Antonio diventato Giulio Antonio I perché primo conte di Conversano della casata Acquaviva e poi Acquaviva d'Aragona che sposò come ho detto in una risposta precedente la figlia del principe di Taranto Caterina Orsini del Balzo lui era come possiamo leggere anche sul Medellione era settimo duca d'Atri lui ha fondato Giulia Nova in provincia di Teramo Giulia Nova che si chiamava anticamente Novum Castrum poi arrivarono le spoglie di San Flaviano che era un vescovo martirizzato di Costantinopoli che peraltro è diventato anche santo patrono di Conversano in conseguenza della venuta di queste spoglie venne ridenominato Castrum Sancti Flaviani Castel San Flaviano poi siccome veniva spesso praticamente subiva danni per incursioni dopo una delle tante distruzioni Giulio Antonio decise di ricostruirla più all'interno dandole il nome di Giulia Nova che è l'attuale Giulia Nova in provincia di Teramo città da lui fondata e in gran parte proprio da lui disegnata perché era un bravissimo urbanista lui praticamente ha fondato a Conversano il convento dell'Isola è morto il 14 febbraio 1481 a Otranto insieme ai martiri di Otranto in conseguenza dell'assedio dei turchi i turchi arrivarono a Otranto come praticamente saprete uccisero ben 800 persone che si rifiutarono di convertirsi alla religione lui in un'imboscata morì fu decapitato il suo cavallo riportò all'accampamento a chilometri di distanza il suo corpo la testa venne mandata come trofeo di guerra a Costantinopoli l'attuale Istanbul e infatti poi il corpo è stato sepolto pare a Conversano pare a San Medetto privo di testa proseguiamo con un uomo di chiesa il cardinale Troiano Acquaviva d'Aragona sepolto nella Basilica di Santa Cecilia a Roma fu un personaggio straordinario ebbe come segretario anche se per un solo anno Giacomo Casanova lui fu ambasciatore del Re di Spagna presso la Santa Sede aveva una solidissima amicizia con Carlo figlio di Filippo V e di Elisabetta Farnese che è il fondatore della Reggio di Caserta peraltro il palazzo diciamo costruito prima della Reggio si chiama Palazzo Acquaviva e l'attuale sede della Prefettura fu costruito dopo che divennero conti di Caserta l'amicizia con Carlo quindi ripeto quello che ha costruito la Reggio di Caserta è divenuto poi re di Napoli senza numero con il solo nome Carlo poi siccome era pur essendo terzo in linea di successione al trono di Spagna essendo la Spagna un regno invece Napoli era un viceregno andò a fare il re di Spagna perché vennero meno praticamente i primi due Carlo doveva sposarsi la madre Elisabetta Farnese desiderava che sposasse una di casa d'Austria però non fu possibile e dovettero ripiegare se così si può dire su Maria Amalia di Sassonia che poi è stata per tanto tempo diciamo la regina Maria Amalia di Sassonia aveva soltanto 13 anni e si fidanzarono per poterla sposare però c'era bisogno della dispensa papale dati i rapporti strettissimi che aveva col Pontefice dell'epoca che peraltro partecipò anche ai suoi funerali riuscì ad avere questa dispensa il marrimonio fu celebrato quando Maria Amalia aveva soltanto 14 anni e da lì nacque questa profonda d'amicizia proseguiamo con il presumibile ritratto di Giovanni Girolamo o Gian Girolamo secondo Acquaviva d'Aragona dico presumibile perché la famiglia ha sempre tramandato di generazione in generazione il fatto che questo fosse il ritratto di Gian Girolamo però purtroppo evidenze storiche mentre mettono in luce la presenza di un ritratto di Giulio I Acquaviva d'Aragona il di lui padre presso il castello di Nardò di cui erano proprietari non evidenzia la presenza di un ritratto di Gian Girolamo per cui gli storici locali sono portati a sospettare che possa trattarsi del ritratto del padre però è universalmente riconosciuto per ora come ritratto di Gian Girolamo secondo Acquaviva d'Aragona è sicuramente il personaggio più discusso di tutta la famiglia Acquaviva d'Aragona è stato uno dei più potenti feudatari praticamente della casata era un uomo era un invincibile spadaccino sapeva praticamente utilizzare le armi già all'età di 13 anni all'età di 17 anni sconfisse i turchi a Manfredonia alla guida di 300 cavalieri nasce nel 1603 nel 1621 sposa Isabella Filomarino nel 1635 fa un'operazione che porta poi alla fondazione di Alberobello pare che per favorire l'incremento demografico nel feudo di Alberobello condonò ad alcuni che si erano macchiati di reati in altri feudi le pene per cui in questo modo più di qualcuno si riversò nel feudo di Alberobello dopodiché costruì Palazzo Acquaviva nel 1635 così come recita una epigrafe sul palazzo che tuttora esiste e con un annesso mulino con una locanda che praticamente diede in affitto e favorì la costruzione dei trulli faccio una precisazione il nome di trullo è apparso nel 1800 circa prima si chiamavano in altro modo si chiamavano inizialmente caselle successivamente caselle tonde nascono come manufatti precari utilizzati dagli agricoltori per ricovero di utensili eccetera poiché erano precari e poiché esisteva una norma nell'ambito delle norme riguardanti i baroni che gli spagnoli avevano emanati che si chiamavano prammatiche de baronibus la prammatica numero 24 prevedeva che i fabbricati costruiti in modo precario non dovessero pagare la tassa di costruzione per cui lui favorì la creazione di un abitato fatto di caselle caselle tonde visto che non si chiamavano praticamente ancora trulli quando vennero però gli spagnoli a vederli non furono molto d'accordo non li ritennero così precari tant'è che gli combinarono tre anni di prigione insomma a lui si devono moltissime cose buone e anche qualche cosa non proprio buona fra le cose buone ricordiamo la venuta a corte del pittore napoletano di scuola caravaggesca Paolo Finoglio che lui chiamò per decorare la stanza matrimoniale del castello di Conversano di cui era proprietario e in cui abitava si dimostrò così bravo che per tutto il resto della sua vita Paolo Finoglio rimase pittore di corte peraltro sposò una pugliese comprò anche una masseria che oggi ricca il nome così come mi ha insegnato lo storico locale Antonio Fanizzi masseria del pittore fra le cose cattive che ha fatto la cosa più brutta che si ricorda è un cruento assedio di Nardò nel 1648 cominciarono a diffondersi i moti antifeudali che partirono da Napoli con Masaniello si diffusero in tutto il regno e anche il feudo degli Acquaviva fu interessato quindi anche Nardò visto che erano duchi di Nardò la madre praticamente concesse a lui il feudo e il titolo di duca di Nardò e quindi la linea Nardò con la madre si estingue e confluisce nella linea con Versano lui era andato a fare battaglie in altri posti perché avevano un esercito privato e quindi praticamente lo mettevano al servizio del re di ritorno trova la città di Nardò occupata in ribellione cerca di penetrare le mura ma erano molto ben fortificate non ci riuscì ricorse ad un inganno i poveri neretini all'epoca Nardò si chiamava Nereto e tuttora gli abitanti si chiamano Neretini gli aprirono le porte della città e purtroppo per loro fu la loro fine perché praticamente fece uccidere tutti i ribelli fra cui anche il sindaco di Nardò deportò alcuni moneci a Conversano insomma con fini diverse e questo gli comportò praticamente una prigionia che fu finale insomma praticamente lui fu imprigionato nel 1650 fu portato in Spagna e da cui non fece più ritorno liberato il 14 maggio 1665 dicendo agli spagnoli che voleva andare a Parigi in quanto non l'aveva mai vista si fece mettere su una portantina in direzione a Parigi probabilmente gli spagnoli per liberarsene in via definitiva lo avvelenarono morirono lui e un suo collaboratore e pare che il suo corpo una volta imbalsamato è stato poi riportato a Conversano e sepolto presso il San Benedetto che era diventata la tomba di famiglia proseguiamo con Andrea Matteo Acquaviva d'Aragona Andrea Matteo III Acquaviva d'Aragona che era ottavo duca d'Atre in quanto primo genito di Giulio Antonio che era settimo duca d'Atre Giulio Antonio nonostante fosse una persona praticamente un dotto urbanista purtroppo aveva delle deficienze diciamo così a livello formativo consapevole di questa deficienza fece studiare i suoi figli Andrea Matteo e Belisario fece studiare loro presso le più grandi scuole dell'epoca quindi lui è stato allievo all'Accademia Pontaniana poi ha anche insegnato all'Accademia Pontaniana si appassionò di letteratura tant'è vero che praticamente fece dei codici miniati di straordinario valore utilizzando fra gli altri anche un miniaturista di Monopoli codici che si trovano presso alcuni musei viennesi in quanto sono stati venduti in epoche diciamo passate a lui si deve essere considerato probabilmente il primo tipografo d'Italia loro nel 1571 così come appare su una pianta di Napoli avevano un palazzo a Napoli che si chiamava il palazzo di Duchi datri che oggi non c'è più all'interno di questo palazzo comprarono le apparecchiature di tipografia che erano stati inventati qualche decennio precedente da Gutenberg e iniziò a stampare le opere letterarie fra cui alcuni scritti di Plutarco che lui praticamente tradusse molto probabilmente lui è stato ritratto da Raffaello presso il museo Liechtenstein di Vienna c'è un quadro che è stato attribuito a Raffaello e che ritrae così dice insomma praticamente dicono nella documentazione del museo un uomo ritratto di uomo virile qualche storico dell'arte paragonando l'immagine di questo ritratto con quella riportata su una medaglia che i duchi datri stampavano su una moneta meglio scusi che si trova presso un museo a Washington vista la somiglianza e visto il fatto che un certo Fulvio Orsini aveva così come appare in alcuni elenchi un ritratto di Andrea Matteo a mano di Raffaello prima maniera ritiene che quel ritratto sia proprio di Andrea Matteo sicuramente i figli il primo genito Giovanni Francesco Gianfrancesco il secondo genito Giovanni Antonio Donato sono stati ritratti da Tiziano e a fianco del medaglione che ritrae Andrea Matteo III c'è la riproduzione di un quadro che ritrae Gianfrancesco il cui originale si trova praticamente a Kassel in Germania Andrea Matteo III fece parte della congiura dei baroni il re di Napoli dell'epoca stava dando moltissimo spazio alla borghesia quindi dando titoli nobiliari e feudi cosa che non fu gradita dagli allora feudatari quindi tramarono l'uccisione del re in un'occasione di un matrimonio se non ricordo male della figlia il re se ne accorsa e fece uccidere tutti i congiurati tranne due uno dei due che si salvò fu proprio Andrea Matteo III si rifugiò al convento di Bitetto dove c'era un frate Dalmata che praticamente si chiamava frate Giacomo che aveva conosciuto anni prima presso il convento dell'isola costruito dal padre che come cuciniere quindi si rifugia lì per avere scampo praticamente frate Giacomo gli consiglia di andare a chiedere perdono al re perché nel frattempo gli era stato tolto gli era stata tolta la contea di Conversano il consiglio funziona seppure con grandissimo rischio perché il re avrebbe potuto naturalmente eliminarlo va dal re viene perdonato e la contea di Conversano gli viene riassegnata ritogliendola al fratello Belisario che per compensazione nel 1497 diventa proprio in conseguenza di questo episodio duca di Nardò per disobbligarsi Andrea Matteo chiede a frate Giacomo cosa potesse fare tenuto conto della utilità del consiglio frate Giacomo che oggi è beato Giacomo gli chiese di costruire una strada Andrea Matteo in una sola notte raggruppando così la leggenda dice ovviamente tutti i suoi vassalli fece costruire una enorme strada che collega ancora oggi il convento praticamente del beato Giacomo con Bitetto il primo maggio di ogni anno c'è un corteo storico rievocativo di questo episodio proseguiamo con Donna Isabella Filomarino lei nasce da una famiglia che era Principi di Rocca d'Aspide un comune in provincia di Salerno dove c'è un castello che attualmente è di altri signori sposa nel 1621 in tenere età insomma praticamente Giangirolo ma secondo a cui d'Aragona e decidono di venire a vivere nella contea la stragrande maggioranza delle famiglie feudali dell'epoca usava vivere a Napoli che era la capitale del viceregno e avevano persone di fiducia nei feudi loro decisero di fare diversamente come qualche altra casata naturalmente decisero di vivere a Conversano e questo diede a Conversano un prestigio eccezionale tant'è che divenne la più grande corte dell'epoca insomma della Puglia alla stregua delle grandi corti rinascimentali perché la presenza di una signora che aveva praticamente le abitudini di cittadina eccetera comportò l'arrivo di pittori di studiosi di poeti quindi praticamente ebbero una corte straordinaria lei diciamo purtroppo ingiustamente viene ricordata per un episodio negativo che riguardò la sua vita però non si ricordano invece tantissimi episodi positivi l'episodio negativo praticamente è questo un suo nipote che si chiamava Giulio II lei ebbe un figlio praticamente di nome Cosimo che fu ucciso a Ostuni davanti al convento dei Cappuccini dal duca di Martina Franca Caracciolo Petraccone V in un famoso duello uno dei tanti duelli che ha riguardato la casata uno dei figli di Cosimo che si chiamava Giulio II per effetto di alcuni attriti con i Carafa i Carafa erano praticamente duchi di Noia che era l'antico nome di Noicattaro insomma i duchi di Noia emisero una condanna a morte di Giulio il quale si rifugiò a Venezia perché praticamente loro avevano eccezionali rapporti con i dogi veneti con Venezia tanto è vero che alcuni dicono che questa casa ha una influenza di scuola architettonica veneta decisa influenza Giulio II si rifugia a Venezia parte un abate che si chiamava l'abate Milone per ucciderlo Isabella venne a sapere di tutto ciò prima che l'abate Milone arrivasse a Venezia assoldò un sicario che raggiunse Venezia prima dell'abate Milone quando l'abate Milone arrivò fu ucciso e imbalsamato e il corpo è stato conservato nel castello di Conversano nella stanza dei trofei di caccia fino alla fine del 1700 questo praticamente episodio unito al fatto che erano principi di Rocca ad Aspide le ha procurato il soprannome di Aspide di Puglia però questo è l'unico episodio negativo peraltro praticamente dovuto ad un mancato diciamo esecuzione del di lui di nipote però si dimenticano tantissimi episodi lei fece costruire la chiesa di San Cosma che molto probabilmente forse avevano difficoltà ad avere figli infatti il primo figlio Cosimo che non si chiamava come il padre del marito Gian Girolamo era il marito e cioè Giulio ma fu chiamato Cosimo perché probabilmente non potevano avere figli infatti arrivò nel 1626 fecero un voto per averlo lo ebbero alcuni anni dopo del matrimonio e per questo fecero costruire probabilmente fecero costruire la chiesa di San Cosma ed erano praticamente molto devoti dopodiché lei a conversano ha fatto costruire anche la chiesa del Carmine perché in uno dei tanti momenti di prigionia dei periodi di prigionia del marito cercò per ringraziarsi i carmelitani di costruire chiesa e convento affinché premessero sul re di Spagna per liberare il marito uno dei tanti episodi di generosità ce ne sono tantissimi ha aiutato praticamente fanciulle che non potevano permettersi la dota per il matrimonio che è raccontato storicamente da un certo capecelatro così come si rileva da un libro del dottor Fanizzi riguarda l'acquisto di una nave di grano siamo ai tempi dei moti a Napoli di Masaniello e alcuni commercianti napoletani comprarono una nave di grano che stazionò a Barletta però nessuno praticamente la pagava quindi questa nave giaceva lì senza essere praticamente sdoganata per Napoli lei pur non avendo danari vendette alcuni suoi gioielli pagò la nave e consentì che il grano arrivasse praticamente a Napoli dove c'era la popolazione affamata completiamo i personaggi della casata Quaviva d'Aragona con Don Fabio Don Fabio aveva come cognome Tomacelli Filomarino erano i cognomi praticamente del padre la madre era Giulia Quaviva d'Aragona l'ultima contessa di Conversano che porta questo cognome Don Fabio era anche appartenente alle famiglie Perrelli e quindi praticamente aveva oltre a Tomacelli Filomarino aveva i cognomi anche Perrelli e Capece che però praticamente non utilizzava lui unendo i titoli di parte materna che ricevette per anticipata successione con disposizione reale a quelli paterni aveva praticamente qualcosa come una cinquantina di titoli nobiliari quindi è morto praticamente con il titolo di Principe di Boiano Principe di Squinzano Marchese di Salice Marchese di Campi Duca d'Atri Duca di Castellana Duca di Noci Duca di Nardò Conte di Conversano eccetera era una persona che al di là dei suoi titoli nobiliari era di una semplicità e di una bontà infinita estremamente religioso ricitava ogni giorno il rosario è morto davanti ai nostri occhi pregando e praticamente non esitava a occuparsi praticamente dei più deboli trattava i suoi operai alla stregua dei più grandi signori che conosceva mi consta di persone insomma lui diceva sempre che le estremità si somigliano i grandi signori e la povera gente praticamente hanno dei metodi di comportamento simili quindi aveva dei gesti di cortesia nei confronti del suo personale straordinario la prima sua attività fu un allevamento di pecore che però ovviamente diceva lui ci raccontava capì subito che non era il mio lavoro mi raccontava che aveva un pastore che riusciva a riconoscere le pecore da come il nome delle pecore aveva segnato ogni pecore un nome dal modo con cui belavano negli anni 50 circa ebbe dalla madre una proprietà nel metapontino in quanto praticamente loro erano anche duchi di torre di mare torre di mare da parte paterna era il nome che fu attribuito a metaponto durante il medioevo una proprietà di qualche centinaio di ettari che residuava da quella che era la signoria di macchia che era loro lui si dedicò amorevolmente a questa azienda agricola divenendo uno dei più brillanti produttori agricoli praticamente del metapontino a lui si deve oltre che tantissimi esempi di vita straordinaria si deve la continuazione del recupero di questa casa ricordo perfettamente una delle frasi che lui diceva diceva sempre ricordatevi che quando rompete anche una sola pietra di questa casa è come se feriste il mio corpo completiamo questa visita con l'album delle firme Don Fabio usa e anche la di lui madre Donna Giulia usava far firmare le persone praticamente che venivano a visitare la casa quindi abbiamo un album delle firme che vediamo qui che riporta le firme delle più grandi famiglie italiane in particolare l'album apre nel 1936 con la firma di Lucia Borbona di Sicilia poi il 20 gennaio 1944 fu ospite per un'intera giornata della principessa Giulia Acquoglia d'Aragona Contessa Giulia Acquoglia d'Aragona Umberto di Savoia c'è la firma proprio Umberto di Savoia era all'epoca luogo tenente del re poi dopo due anni rivenne re anche se soltanto per pochissimo tempo ovviamente data l'importanza del personaggio gli fu riservata un'intera pagina per la firma lo storico Fanizi mi ha passato un documento simpatico è una cronaca riportata su un giornale di qualche decennio fa di una intervista fatta ad un certo Angelo Calcagnini Angelo Calcagnini era praticamente uno dei tanti scultori che c'era presente a Conversano scusate a Castellana Grotte lui si trovò a lavorare qui durante la visita del 20 gennaio 1944 infatti scrisse purtroppo ero in condizioni di difficoltà era stata bombardata la mia casa per fortuna che la principessa Giulia Covio d'Aragona mi diede lavoro per un anno e racconta praticamente dice mi sono trovato durante la visita del Principe Umberto Giulia Covio d'Aragona ci fece mettere tutti in fila per assicurare una degna accoglienza al Principe Umberto e scrisse quel giorno fu per noi un giorno straordinario perché mangiammo anche noi a dovere quindi i pasti che furono dati al Principe furono dati anche a loro e poi racconta di un episodio simpatico dice il Principe scese al piano terra dove io stavo costruendo delle mangiatoie le trovò bellissime e mi suggerì di apporre il mio documento la mia firma su queste costruzioni che io stavo facendo e io cosa che feci e sono contento di aver lasciato traccia della mia presenza in questo straordinario monumento le mangiatoie le abbiamo ancora speriamo di poterle rimettere in vista in modo da farle vedere a tutti Michele che altro possiamo visitare? vedendo un po' l'aspetto naturalistico qui possiamo visitare un parco noi abbiamo un parco praticamente da questa parte della strada di oltre 30.000 m2 in cui spicca una quercia noi abbiamo complessivamente circa 60 specie vegetali l'albero più imponente di tutti che pare secondo la forestale in rapporto al diametro del tronco a circa oltre 500 anni è un fragno il fragno scientificamente si chiama Quercus troiana del genere Quercus che ha 12 specie presenti in Puglia noi ne abbiamo praticamente ben sei questo albero è un albero straordinario perché sta lì da 5 secoli nonostante per effetto di un fulmine che ci fu negli anni secoli passati è totalmente svuotato praticamente all'interno quindi vive della parte perimetrale del tronco che è la parte dove è attraversata dai fasci linfatici è un albero maestoso a 4 metri e 60 praticamente di circonferenza e ha lo status per poter essere riconosciuto albero monumentale grazie mille Michele sono io che ringrazio loro per avermi dato la possibilità di illustrare seppure molto brevemente la straordinaria storia di questa casata che purtroppo è ricordata soltanto per episodi che sono soltanto e pura leggenda e non per episodi di storia che ne hanno connotata la loro grandezza grazie sai che può interessare o coinvolgere anche te